Ieri 50 era prassi che il secondo o terzo pilota di una scuderia desse la sua macchina al primo che aveva subito un guasto Basti pensare, l'esempio più famoso di tutti è Collins con Fangio per permettergli di vincere il suo titolo mondiale con la Ferrari Ce ne sono tanti altri di esempi, ad esempio Derek Warwick in Austria nel 1986 Oppure Brasile 78 con Jean-Pierre Jarier che deve cedere la sua vettura a Joachim Mas O Patrick També che nel Gran Premio d'Argentina 1979 deve cedere la sua vettura a John Watson Ma l'esempio più lampante di tutti forse ce l'ha regalato Mike Tuckwell Infatti al Gran Premio del Canada, la sua terza apparizione in Formula 1 al volante della Tyrrell La gara viene ben presto fermata per un incidente al via tra Alan Jones e Nelson Piquet che coinvolge altre vetture e porta a una bandiera rossa Alla ripartenza Ken Tyrrell gli dice guarda grazie mille però dobbiamo dare la tua macchina a Jarier